Attenzione, stanno giungendo notizie molto interessanti dall'India. Ora tenete presente che l'India è il secondo paese più popoloso del mondo con quasi 1 miliardo e 400 milioni di persone, ripeto, 1 miliardo e 400 milioni di persone, mentre invece la Cina è prima con 1 miliardo e 440 milioni di persone. Quindi l'India, se non altro come popolazione, conta più o meno tanto quanto la Cina. Tenete presente, tanto per intenderci, che gli Stati Uniti hanno 330 milioni di abitanti, quindi l'India ha più di 4 volte gli abitanti degli Stati Uniti. Certo, gli indiani mediamente sono poveri, molto poveri, anche più poveri dei cinesi. Tuttavia, se succede qualcosa di importante e dirompente in India, ecco che potrebbe cambiare completamente le carte in tavolo, come ad esempio cambiò quando l'anno scorso la Cina decidette di bandire completamente il mining delle criptovalute, facendo cadere i prezzi. Le notizie interessanti che provengono dall'India sono tre. Una confermata, due sono solamente delle voci, però sono molto interessanti. La notizia confermata è che l'India intende regolamentare l'utilizzo delle criptovalute, cioè di fatto legalizzarle. Per anni il governo indiano ha cercato di fare la guerra alle criptovalute, aveva addirittura emesso un ban, poi la Corte Costituzionale aveva bocciato questo ban perché incostituzionale e da quel punto in poi l'atteggiamento del governo indiano nei confronti delle criptovalute è cambiato fino ad arrivare all'annuncio ufficiale dato in Parlamento che intendono regolarizzare l'utilizzo delle criptovalute e lo legalizzeranno. Ma le notizie più interessanti sono le altre due, però sono solo voci. Ebbene dovete sapere che secondo un sondaggio fatto da Deloitte la maggior parte degli indiani sarebbe disposta a comprare criptovalute. Lo ripeto, la maggioranza, più del 50%, più di 700 milioni di persone sarebbero disposte in India a comprare criptovalute. Certo, probabilmente per importi molto limitati, ok? Però dovete tenere presente che in questo momento si stima che in tutto il mondo ci siano più o meno 700 milioni di persone che possiedono asset digitali cioè tra Bitcoin, altcoin, token, NFT, stablecoin, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi se quel sondaggio di Deloitte fosse vero, noi potremmo vedere nei prossimi anni un raddoppio a livello mondiale, un raddoppio per due, del numero delle persone che possiedono criptovalute. Però attenzione, è una voce che circola nel senso che non è detto che questo sondaggio corrisponda a realtà, però la voce che circola è questa. E poi c'è un'altra voce che circola, ovvero che in India si sta iniziando a discutere della possibilità di valutare Bitcoin come valuta a corso legale, come in El Salvador. Non sto parlando di una discussione che c'è già in Parlamento, sto parlando di una discussione sotto banco, infatti queste sono solo voci che circolano, si trovano in giro così su Twitter, ma che provengono da fonti che si occupano di criptovalute in India. E quindi potrebbe esserci nei prossimi mesi o anni una discussione in India, non solo su come lasciare che i cittadini usino le criptovalute, ma anche su come far sì che in qualche modo lo Stato non si limiti a consentirlo, ma addirittura in qualche modo lo promuova, anche se la parola promuovere forse in questo caso è eccessiva. Ora dovete sapere che la moneta indiana, la rupia, non è che se la passi poi tanto bene ultimamente, questo è il grafico del valore in dollari americani della rupia indiana negli ultimi 5 anni. Nel 2018, inizio 2018 era 0,015, adesso è a 0,013, quindi negli ultimi 4 anni ha perso il 15% del proprio valore rispetto al dollaro. Il dollaro a sua volta è una valuta inflattiva che perde di valore con il tempo, quindi non è che ne abbia perso proprio tantissimo, ci sono stati in cui le monete hanno perso molto e molto di più, però non è che la rupia, cioè la moneta nazionale indiana, da un po' di tempo a questa parte performi particolarmente bene, anzi tutt'altro. Cioè, detto in altri termini, avendo una moneta che comunque è deboluccia, ci sta che qualcuno inizi a pensare a bitcoin come alternativa. Ora, arrivare a dichiararla a valuta corso legale è davvero in questo momento per ora inimmaginabile, ma il fatto che si inizi a discuterne significa che è possibile, ma non so quanto probabile, che nel corso dei prossimi mesi o anni in qualche modo bitcoin ne venga sdoganato in India. E quindi il sondaggio precedente potrebbe in qualche modo descrivere la realtà effettiva dell'India nei prossimi mesi o anni per quanto riguarda le criptovalute. attenzione però perché questi sono ragionamenti sul lungo periodo, cose che avverranno nel corso dei prossimi mesi o addirittura anni. Sul breve periodo, per esempio, è il grafico del prezzo di bitcoin oggi. Oggi si è verificata una discesa, stiamo parlando di un calo del prezzo di bitcoin che per ora è di circa il 4%. Però guardate cosa capita se io a questo grafico, cioè del prezzo di bitcoin, aggiungo quello che sono i rendimenti dei titoli di Stato americano a 10 anni, US 10Y. Si vede chiaramente come oggi la discesa del prezzo di bitcoin sia seguita a questo calo. Ricordatevi che quando calano i rendimenti di titoli di Stato americano significa che c'è un po' una fuga dal rischio e quindi anche da bitcoin, infatti oggi ci sono diversi titoli che stanno performando male negli Stati Uniti d'America. In particolare, come dico in quest'altro mio video del mio secondo canale YouTube, vi metto il link in descrizione, oggi PayPal si è beccata davvero una botta pazzesca in borsa perché è sotto del 25% in un'unica giornata. Quindi oggi per le borse americane non è una grande giornata, c'è un po' una fuga dal rischio e quindi c'è stata anche un po' una fuga da bitcoin. Queste sono cose che capitano sul lungo periodo. Quello di cui vi ho parlato io, cioè la questione indiana, invece incide solo ed esclusivamente sul medio, anzi sul lungo periodo. Io vi consiglio caldamente di seguire ciò che sta capitando in India riguardo le criptovalute e bitcoin perché potrebbe avere un impatto davvero clamoroso. Pertanto vi suggerisco di seguirmi su Twitter, vi metto il link in descrizione perché è su Twitter che pubblico tutte le notizie importanti e rilevanti che provengono per l'appunto dall'India. non aspettatevi però, da questo punto di vista, delle importanti novità sul breve periodo, cioè nei prossimi giorni. Un saluto, ciao!